Buongiorno, amore di mamma. Buongiorno, ma... come ci svegliano realmente le nostre mamme? Beh, cosa fai? Ti svegli? Che sono quasi le dieci, ma tenere di conto, tenere di conto che io la tetta stavo andando a vendere fazzoletti, a vendere melanzane, a vendere hamburger, e tu sei ancora lì spiaggetta nel lettino, come se niente fosse, è vero? Alzati, ora. Vai. Aiutatemi. Perché è tutto a me? Ah, ma tu proprio mi stai sfidando, vero? Usiamo le maniere forti adesso. Aspetta un attimo. Brunta stronza di merda, alzati adesso, perché se no mamma ti prende e ti sbatte il cervellino in terra. Va bene. Baci baci.